La diga del Vajonte è ormai giunta al termine. Gioia e amarezza, come dicevo poco fa, sono dentro un po' a tutti noi. Si smontano i cantieri, le acque del bacino salgono a poco a poco. Nuovi progetti attendono i tecnici e gli operai che hanno costruito la più alta diga a volta e doppia curvatura del mondo. Per tanto tempo ancora, per anni, racconteranno e rievocheranno questa singolare avventura del lavoro umano e avranno il vanto di dire, io c'ero. Quella che avete appena ascoltato è la voce di Carlo Semenza, ingegnere progettista della diga del Vajonte. La ragione per cui per tanto tempo, per anni, come dice lui, si è raccontata e rievocata questa singolare avventura del lavoro umano non è sicuramente quella che auspicava l'ingegner Semenza. Ed oggi vi spiegherò il perché. Benvenuti al primo episodio di Voce del Vajonte. Tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, la crescente richiesta di energia per lo sviluppo industriale dà luogo allo sfruttamento dell'energia idrica per poter produrre energia elettrica, dando luogo all'energia idroelettrica. In Italia, la presenza di numerosi corsi d'acqua in ampie valli, unita alla carenza di combustibili fossili come il carbone, rende l'energia idroelettrica la fonte ideale di approvvigionamento energetico, che garantisce fino all'85% del fabbisogno elettrico nazionale, già nella prima decada del 1900. E' in questo contesto di sviluppo industriale, con conseguente aumento della richiesta di energia elettrica, che parte la nostra storia. Ci troviamo a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove il torrente Vajonte ha prodotto una caratteristica valle stretta e lunga a forma di V, tra il Monte Toc ed il Monte Salta, nota come Valle del Vajonte. Alle pendici del Monte Salta sorgono diverse comunità montane, contenute all'interno del comune di Erto e Casso, mentre alla confluenza del torrente Vajonte, nel Piave, sorge la città di Longarone, in provincia di Belluno. Questa valle viene ritenuta particolarmente adatta alla costruzione di una diga, da parte dell'ingegner Carlo Semenza, che, a partire dal 1926, inizia a sviluppare diversi progetti per la costruzione di un impianto idroelettrico nella Valle del Vajonte. Il progetto, presentato per conto della SADE, Società Adriatica di Elettricità, viene approvato nel 1948, ma viene modificato ulteriormente nel 1957 ed è noto come Grande Vajonte. Il progetto prevede la costruzione di una diga di tipo a doppio arco, alta 261,60 metri e che consente un accumulo di acqua massimo pari a 150 milioni di metri cubi. L'impianto fa parte di un più complesso sistema, noto come Piave Boite Maé Vajonte. La posizione baricentrica e la vasta capacità di invaso permettono all'impianto del Vajonte di agire da integratore e regolatore dei bacini del Piave e del Cellina, migliorando la produzione di energia dei due sistemi ed aumentando la disponibilità dell'acqua per l'uso agricolo, conferendo al bacino un ruolo centrale all'interno del complesso impianto. I lavori di costruzione della diga del Vajonte durano tre anni in tutto, tra l'estate del 1957 e settembre 1960. Un tempo eccezionalmente breve, se si tiene conto degli inevitabili rallentamenti di circa tre mesi causati dalle rigide condizioni dei periodi invernali. Nel periodo della sua costruzione, quella del Vajonte è la diga a doppio arco più alta del mondo, superata dalla Grande Dixienne nel 1961, ed ancora oggi si classifica come l'ottava più alta del mondo. Quando iniziano i lavori di costruzione della diga del Vajonte, il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta, prevede che vengano effettuati degli studi geologici solo sulla zona d'imposta della diga, di cui si deve indagare la stabilità e la tenuta idrica, senza che venga presa in considerazione la stabilità dei versanti. Ciò nonostante, la relazione geologica del progetto Grande Vajonte, a firma del geologo e professore Giorgio Dalpiaz, include degli studi nella zona di Erto e nella Sella di Santo Svaldo, alla fine di accertarne le condizioni di stabilità del terreno. Il 22 marzo 1959, nel serbatoio di Pontesei, un altro degli impianti del piave Boita e Mae Vajonte, Il crollo di una massa di frana all'interno del lago nella sponda sinistra genera un'onda alta circa 20 metri nella sponda opposta, che travolge e causa la morte di un operaio dell'impresa Carniel, Arcangelo Tiziani, per poi sormontare il coronamento della diga di 2-3 metri. Questo evento suona come un rumoroso campanello d'allarme per il bacino che si sta venendo a creare con la costruzione della diga del Vajonte. Di conseguenza, l'ingegner Carlo Semenza, il direttore del Servizio Costruzioni Idrauliche, responsabile per la gestione dell'impianto, decide di far effettuare uno studio geologico approfondito sulla stabilità dei versanti del bacino del Vajonte. L'incarico dello studio viene conferito all'ingegner Leopold Müller, austriaco, che, in qualità di esperto geomeccanico, già da anni segue i lavori alle imposte della diga del Vajonte. L'ingegner Müller stila un dettagliato programma di studio e ne affida lo svolgimento al geologo dottor Edoardo Semenza, figlio dell'ingegnere progettista. Le indagini del dottor Semenza portano alla conclusione che la massa presente in sinistra aerografica, che poggia su una superficie di circa un chilometro quadrato, è dal volume stimato di 50 milioni di metri cubi. Altro non è che il residuo di un'antichissima frana, o paleofrana, caduta dal Monte Toc. Le conclusioni raggiunte dal dottor Semenza non convincono però il professor Dalpiaz, e dinanzi al disaccordo tra il figlio e l'illustro professore, l'ingegnere Semenza richiede lo svolgimento di ulteriori studi. Al termine dell'estate 1960, le indagini sulla possibile esistenza di una frana sul bacino del Vajonte portano a conclusioni discordanti. Il dottor Edoardo Semenza parla di un'estesa e profonda paleofrana che, per il momento, si muove molto lentamente, mentre sia il professor Giorgio Dalpiaz, il quale non crede all'esistenza di una tale frana, che il professor Pietro Caloi sostengono che nella stessa zona il movimento franoso sia limitato del materiale accumulato negli anni, di 10-20 metri di profondità, poggiato su un potente supporto roccioso. Tuttavia, la situazione cambia quando, il 4 novembre 1960, una massa di frana di 700.000 metri cubi precipita all'imperno del lago del Vajonte, provocando un'onda alta 2 metri. L'onda non causa alcun danno, ma il materiale che l'ha generata è la prova definitiva dell'esistenza di una frana nel bacino. Quasi contestualmente a questo evento, sul Monte Toc appare un'apertura a forma di N lungo il perimetro della frana, corrispondente a quello individuato in precedenza dal dottore Edoardo Semenz. Viene nuovamente interpellato l'ingegner Müller e, in attesa dei risultati del suo studio, vengono presi diversi provvedimenti. Il primo, il lento abbassamento della quota del lago per evitare la formazione di ulteriori onde. Il secondo, la costruzione di una galleria di sorpasso frana o bypass che, nel caso in cui il crollo della frana ostruisca completamente la valle, permetterebbe ai due laghi di residui di continuare a comunicare. Il terzo, l'indagine dei fenomeni ondosi associati al crollo del versante sinistro del Monte Toc nel serbatoio su di un modello idraulico. A febbraio dell'anno successivo, con il lago a quota 600 metri sul livello del mare, iniziano i lavori per la costruzione della galleria di bypass. Contestualmente, l'ingegner Müller consegna il suo rapporto, nel quale afferma che La stima dell'ingegner Müller risulta essere piuttosto precisa, dato che il valore reale della massa di frana è di 270 milioni di metri cubi, ed avvalora la tesi del dottore Edoardo Senenza, circa una frana di grandi dimensioni, anche se non ne condivide l'antica origine. Nonostante l'ingegner Müller ritenga che una frana talmente grande, dopo essersi mossa una volta, non tornerebbe tanto presto all'arresto assoluto, propone diverse contromisure, alcune delle quale irrealizzabili, per provare a tenere sotto controllo la frana, e non sconsiglia mai l'abbandono dell'opera. Una volta completati i lavori per la costruzione della galleria di bypass, nell'ottobre 1961 si procede ad innalzare nuovamente il livello del lago fino a quota a 680 metri sul livello del mare. Il giorno 30 dello stesso mese, a causa di un'emorragia celebrale, muore l'ingegner Carlo Semenza. La direzione del Servizio Costruzioni Idrauliche, e quindi la responsabilità della gestione dell'impianto del Bayont, passa all'ingegner Alberico, detto Nino Biadene, suo braccio destro. A luglio 1962, l'ingegnere Augusto Ghetti, professore di idraulica all'Università di Padova ed incaricato di condurre esperimenti su un modello idraulico degli effetti di un'eventuale frana nel lago del Bayont, consegna la sua relazione, nella quale indica che la quota a 700 metri sul livello del mare può considerarsi di assaluta sicurezza nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana. La relazione si conclude con la richiesta di proseguire gli esperimenti per avere più certe indicazioni sulla possibilità di consentire anche maggiori invasi nel lago serbatoio senza rischio di danni a valle della diga in caso di frana. Questa richiesta, però, non viene accolta dall'ingegner Biadene, che non ritiene necessario proseguire lo studio. Intanto, la velocità di movimento della frana, in lieve aumento da aprile, raggiunge valori di circa 1,5 cm al giorno a novembre, ragion per cui si decide di procedere con lo svaso del lago fino a quota 650 metri sul livello del mare. A metà aprile 1963 si decide di procedere con il terzo invaso. Ad agosto, nonostante il livello del lago si fosse mantenuto pressoché costante, le velocità di movimento della frana iniziano ad aumentare. Nonostante ciò, si decide di alzare il livello del lago a quota 710 metri sul livello del mare, superando la raccomandata quota di assoluta sicurezza indicata dal professor Ghetti. La velocità della frana inizia ad aumentare, arrivando a circa un centimetro al giorno intorno a metà settembre, fino a raddoppiare entro la fine dello stesso mese. Il 26 settembre 1963, l'ingegner Biadene ordina lo svaso rapido del lago. La decisione, purtroppo, è tardiva. La velocità di movimento della massa continua ad aumentare fino a 30 cm al giorno, registrati la mattina del 9 ottobre 1963. Nella famosa lettera al capocantiere ingegner Pancini, che si conclude con la rinamata esclamazione che il Dio ce la mandi buona, l'ingegner Biadene dichiara di voler raggiungere quota 695, sempre allo scopo di creare una fascia di sicurezza per le ondate, facendo chiaramente riferimento alla quota di assoluta sicurezza presente nella relazione del professor Ghetti. Alle 22.39 del 9 ottobre 1963, una massa di frana di 270 milioni di metri cubi si stacca dal Monte Toc e precipita all'interno del lago del Bayont con una velocità stimata dell'ordine di 100 km orari, causando l'innalzamento di una massa d'acqua pari a 50 milioni di metri cubi. L'onda generata si divide in tre parti. La prima risale sulla sponda in destra orografica del lago, verso Casso, distruggendo negli uffici e le abitazioni del personale della diga. La seconda ripercorre all'indietro il lago, verso Erto, distruggendo le diverse frazioni, e la terza, di soli 25 milioni di metri cubi, procede in direzione della diga. Una volta raggiunta, l'onda la sovrasta di oltre 150 metri sopra il bordo superiore e, successivamente, si riversa nella valle sottostante, radendo al suolo tutto ciò che incontra sulla sua strada, inclusa la cabina comandi della diga, l'ongarone e diverse frazioni limitrofe. Il bilancio è di 1910 vittime ufficialmente accertate. Circa quattro anni e mezzo dopo il disastro, il 21 febbraio 1968, il giudice istruttore di Belluno, dottor Mario Fabri, deposita la sentenza del procedimento penale contro 11 imputati. Nel frattempo, due di questi erano morti, mentre il capo cantiere ingegner Pancini si toglie la vita per il rimorso il giorno prima del processo. Il 25 novembre 1968 inizia il processo di primo grado, che si conclude la sera del 17 dicembre 1969. Il processo, però, non si tiene a Belluno, ma viene spostato nel capoluogo abruzzese dell'Aquila per legittima sospicione, a motivo dei problemi di ordine pubblico. Tre imputati su undici vengono condannati a sei anni, di cui due condonati di reclusione, per omicidio colposo plurimo, colpevoli di non aver avvertito per tempo e di non aver messo in moto lo sgombero. Tutti gli altri furono assolti. La prevedibilità della frana non viene tuttavia riconosciuta. Il 20 luglio 1970 inizia all'Aquila il processo di appello, che si conclude il 3 ottobre dello stesso anno. E la sentenza, finalmente, riconosce la prevedibilità della frana. Dal 15 al 25 marzo 1971, a Roma si svolge il processo di cassazione, nel quale l'ingegner Biadene, direttore del Servizio Costruzione Idrauliche, e l'ingegner Sensidoni, capo del Servizio Dighe del Ministero dei Lavori Pubblici e membro della Commissione di Collaudo del Vajont, vengono riconosciuti colpevoli di un unico disastro, inondazione aggravata dalla previsione dell'evento, compresa la frana e gli omicidi. L'ingegner Biadene viene condannato a 5 anni, 2 per il disastro e 3 per gli omicidi. L'ingegner Sensidoni ha 3 anni e 8 mesi. Entrambi gli imputati beneficiano di 3 anni di condono, nel caso dell'ingegner Biadene, per motivi di salute, e viene infine rilasciato dopo 2 anni di detenzione per buona condotta. La sentenza viene emessa appena 14 giorni prima della scadenza dei 7 anni e mezzo dall'avvenimento, giorno nel quale sarebbe intervenuta la prescrizione. Quella del disastro del Vajont è una vicenda dalle mille sfaccettature che ho provato a riassumere in questo video, una storia che non può lasciare indifferenti, così come accade a me quando ne sono venuto a conoscenza all'età di 7 anni. La passione per l'argomento mi ha spinto, nel corso del tempo, a contattare superstiti, tecnici e persone che hanno vissuto il disastro in prima persona, oltre che geologi ed altri esperti, al fine di comprendere al meglio quanto accaduto. In seguito alla visita dei luoghi del disastro nel 2020, ho deciso di raccogliere dati, testimonianze e documenti per scrivere il mio libro La notte più buia della valle, pubblicato lo scorso ottobre in occasione del sessantesimo anniversario del disastro e che trovate disponibile al link in descrizione. Prima il fragore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della memoria. Queste le parole incise fuori dal cimitero delle vittime del Vaillant a Fortogna, come monito a non dimenticare mai questo disastro. E' con queste parole ben impresse nella mente che ho deciso di creare questa serie di episodi in cui parleremo di Vaillant con superstiti, sopravvissuti ed esperti del settore per mantenerne viva la memoria. Ogni episodio avrà un ospite diverso che sarà la nostra Voce del Vaillant. A l'Oni episodio avrà un ozore